Caffè Bitcoin oggi, le news delle cripto in pillole, benvenuta benvenuta, un abbraccio, buon lunedì 13 settembre, anche questa settimana facciamo questo velocissimo recap di quello che è successo negli ultimi giorni e andiamo a vedere alcune notizie, il grafico del Bitcoin, il classico DeFi Pulse Fear and Greed Index, vediamo a che punto siamo. Quindi iniziamo subito, partiamo da uno sguardo generale, presenta un quadro abbastanza red, abbastanza rosso, con il Bitcoin che sta in questo momento aumentando, incrementando la sua forza verso il basso, lo troviamo a 44.275, poi guardiamo anche nel grafico, notiamo Solana sempre al settimo posto che sta prendendo beneficio, meno 16% nelle ultime 24 ore, Prima o poi il beneficio arrivava come abbiamo detto, momento per entrare a far parte di Solana, di Terra e di tanti progetti se avete questo tipo di intenzione con un po' di sconti. Algorand continua la sua corsa, più 50% in una settimana, c'era anche Cosmos che continua, ha superato i 30 dollari. Un'altra che non risente di questo temporaneo rallentamento del mercato è Elrond e Tezos che continuano la loro corsa. Elrond è arrivato quasi a 300 dollari nella giornata di ieri, nelle giornate precedenti 45% nell'ultima settimana. Andiamo al DeFi Pulse che anche DeFi Pulse ha e segue, come ormai avrai capito, il mercato. Eravamo arrivati quasi a 100 bilioni, abbiamo fatto uno storno, quindi quando i soldi escono vengono anche tolti dalla DeFi. Ave continua la sua dominance con 15.16%, in questo momento ci troviamo a 86 bilioni, quasi 87, e DeFi Pulse Index a 339. Fatelo vedere, anche questo è super interessante per preparare le prossime mosse, se sei convinto che Bitcoin, o convinta, che Bitcoin possa riprendere e andare verso nuovi massimi di sempre. Fear and Greed Index interessante, eravamo nella giornata di ieri a 32, poi il Bitcoin si è mosso, ha recuperato un po' per poi perdere tutto durante le prime ore della mattina di oggi. E il Fear and Greed Index viene a 44, dove c'è Fear, molto meglio di ieri che era a 32, lontanissimi dalla scorsa settimana dove eravamo in extreme grid. Quindi stiamo a vedere anche il comportamento un po' della massa. Due notizie dalle quali non possiamo oggi non parlare. Cardano lancia finalmente gli smart contract dopo un hard fork di successo. Cardano in questo momento è diviso tra coloro che apprezzano il lavoro di Cardano, seguono Cardano, i famosi Cardano fans, rimasti fino ad oggi ad attendere tutti questi sviluppi e tutto lo sviluppo di Cardano. E dall'altra parte ci sono i Cardano haters che ovviamente dicono che è così tanto tempo per fare gli smart contract, eccetera, eccetera. Però queste sono tutte chiacchiere, la notizia ufficiale è che Cardano ha i suoi contratti intelligenti e ha fatto il suo hard fork con successo. Cardano ha completato il suo hard fork a Lonzo, qua l'abbiamo straparlato in questo canale, per introdurre gli script di contratti intelligenti basati su Plutus. Il 12 agosto Cardano ha twittato che l'aggiornamento era stato completato con successo, facilitando per la prima volta la creazione e l'esecuzione di contratti intelligenti sulla blockchain pubblica. Nonostante abbiamo celebrato il traguardo, Cardano nota che sono ancora gli inizi di questo progetto. Ricordate che tutto il mondo crypto è ancora agli inizi, se pensi che siamo già verso la fine o eh? No, siamo sempre agli inizi. Quindi tante cose succederanno negli anni a seguire anche con Cardano. Cardano ha annunciato che è completamente il suo hard fork a Lonzo, inaugurando la sua tanto attesa funzionalità di smart contract. È qui che inizia veramente la missione, quando noi, l'intera comunità, iniziamo a realizzare la visione per la quale tutti abbiamo lavorato per così tanto tempo. Costruire un sistema decentralizzato che stende identità, opportunità economiche a tutti e ovunque. Vi lascio l'articolo, leggetelo, non stiamo a leggerlo tutto, comunque complimenti ai Cardano holders, complimenti a coloro che hanno creduto in Cardano. Siamo arrivati anche questo giorno e tutto al momento è andato bene. Stiamo a seguire come si svilupperà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Un'altra notizia che lasciamo sempre a lunedì e non vogliamo saltare neanche questo lunedì sono le 5 migliori criptovalute da tenere d'occhio questa settimana. Ovviamente questi nomi li abbiamo già visti nello sguardo generale. Sono Bitcoin, Algorand, Atom, quindi Cosmos, Tezos e Elrond. Anche Cointelegraph dice mantenete di sott'occhio perché se una coin cresce così violentemente, così tanto durante una fase di storno del Bitcoin e del mercato in generale ha parecchio da dare. Quindi tenetele in considerazione e dateci uno sguardo. Teniamo che sia un articolo interessante come diciamo sempre perché poi attraverso anche i grafici che noi adoriamo e usiamo tutti i giorni ci spiega il perché sono da tenere sotto d'occhio queste 5 monete. Quindi tenetele sott'occhio, aggiungetele. Non è un consiglio finanziario di andare a comprarle ovviamente. Un'ultima notizia dal decryptovalute prima di passare all'analisi di Bitcoin e Ethereum. App ID dell'ufficio postale britannico per vendere voucher Bitcoin dalla prossima settimana. Quindi già da questa. La notizia dell'11 settembre, questa è una notizia che ovviamente passa inosservata. La tecnologia dell'ufficio postale viene utilizzata per vendere buoni che possono essere riscattati sul DEX decentralizzato Swarm Market. Quindi ufficialmente e lo leggiamo velocemente i cittadini britannici possono acquistare criptovalute tramite l'app dell'ufficio postale dalla prossima settimana. Quindi da questa settimana l'ufficio postale statale ha collaborato con DEX Swarm, quindi il DEX decentralizzato. Diversi politici ovviamente hanno condannato la mossa poiché le criptovalute hanno attirato il controllo normativo. A partire dalla prossima settimana, già da oggi in questo caso, il servizio postale statale britannico aiuterà chiunque a acquistare criptovaluta attraverso la sua app di verifica di identità e questa è la parte della notizia che un po' mi ha... Ovviamente passando attraverso questa app ID tutto rimane, sanno esattamente chi sta comprando e chi non sta comprando cripto. Passare attraverso queste app statali è un po' come dire allo Stato, guarda che sto comprando cripto, guarda che sto comprando cripto, però ovviamente tutti, ognuno è libero di fare quello che preferisce. La mossa arriva dopo che l'ufficio postale ha firmato un accordo con lo scambio appunto. L'accordo consente agli utenti verificati dell'app, quindi documenti e tutto quanto, dell'ufficio postale Easy ID, di fare clic sul sito web di Swarm dove possono acquistare buoni che possono essere riscattati in criptovalute. Io vedo molto più facile passare da un conto corrente o da una carta di credito, comprare direttamente cripto e salvarmele dove voglio salvarle o dove dovrei salvarle. Questa, ripeto, è sempre la mia opinione. Anche questo ve lo lascio qua sotto, leggetevelo e andiamo a vedere invece il nostro amico Bitcoin, Ethereum, la Dominance, che cosa è successo in questo fine settimana. Partiamo subito da Bitcoin e partiamo proprio dal settimanale. Quindi il settimanale non si era chiuso male, abbiamo chiuso al di sopra di questo importante supporto, nella giornata di ieri abbiamo recuperato, abbiamo chiuso al di sopra della 200 daily moving average che è a 45.873 in questo momento, è marcata con la riga gialla. Tutto sembrava che la settimana si stava recuperando un po' rispetto a come era partita all'inizio. Potrebbe essere che anche questa settimana sia così, una partenza diretta verso il basso e poi un recupero, però ovviamente non abbiamo la palla di cristallo, possiamo solo ipotizzare. L'importante nel grafico settimanale che questo supporto settimanale ha retto. È ancora un supporto, abbiamo chiuso al di sopra, qui troviamo anche la media mobile 21 settimane che ha retto nel dump di martedì, mercoledì e c'è la 50 che sta salendo velocemente. Quindi queste due potrebbero, stanno andando nella giusta direzione. Questa è quello che vogliamo vedere, entrambe le moving average e le medie mobili che vanno nella stessa direzione. Quindi stiamo a vedere settimana, settimane molto importanti per il prezzo di bitcoin. Vediamo nel giornaliero, nel giornaliero anche qui siamo riusciti a chiudere, questa è la 21 possiamo toglierla. Anche qui nel giornaliero la giornata di ieri diceva ok abbiamo chiuso sopra questo supporto, siamo andati addirittura al di sopra della 200 moving average, abbiamo recuperato perché avevamo perso la 50 giorni, la media mobile a 50 giorni. Tutto sembrava però nel weekend spesso ci è abituato a questo tipo di mosse che poi appena inizia la settimana vera, tra virgolette, tutto viene cancellato. E vediamo esattamente oggi, siamo in questo momento a 44.496, momento della registrazione di questo video, siamo di nuovo al di sotto della 200, siamo di nuovo al di sotto della 50 e stiamo testando questo supporto. che abbiamo testato già ad inizio agosto, aveva fatto da resistenza, una volta sfondato a metà 12 agosto, 13 agosto testato come supporto, 17, 18 e 19, qui aveva retto come supporto, siamo di nuovo a questo supporto importante. Approfitto a proposito dei supporti e resistenze, 15 secondi, un spot pubblicitario per tutti voi. Rieccoci, quindi oggi è lunedì, parliamo sempre di supporti e resistenze, dove può andare il mercato, dove non può andare il mercato, la newsletter la stiamo curando ormai da diversi mesi, la seconda parte, interessantissima, specialmente in questi momenti un po' di storno del mercato, sapere che cosa sta accadendo con i dati on chain, con il grande Alberto che cura la seconda parte, non lasciartela scappare, puoi iscriverti gratuitamente e poi eventualmente se ti interessa leggere più contenuto o la totalità del contenuto puoi fare lavoramento mensile o annuale. Stiamo a vedere come si risolve la giornata di oggi e stiamo a vedere come riapre poi la giornata di domani, perché se non hai visto il video che ho fatto giovedì, vattelo a vedere, da questo momento che è un po' la notizia di Coinbase e la SEC, ero andato a prendere quello che era successo proprio al top, sempre con Coinbase coinvolto, avevo fatto questo tipo di calcolo, e questa linea, questo meno 16% lo troviamo poi qua, quindi questo è un target che se ripete questa cosa potrebbe farlo, non è detto assolutamente, non c'è niente di tecnico, semplicemente se riproduce quel fractal, quella parte di aprile. Io ho personalmente a questo livello 41.900 e al di sotto 40.500 degli ordini in caso in cui il mercato mi permette di approfittare di questa occasione, uno è inserito questo swing high, come vedi qua, non è stato ripreso, quindi riempito con questo dump, può essere che andiamo a vederlo poi durante questa settimana o magari anche la prossima, e un altro l'ho messo ancora più sotto, in caso questa possibilità si sviluppi vada a toccare questo livello per poi ritracciare come avevamo visto appunto nella puntata con un wick che andava sotto e poi riportarsi sopra questo supporto che diventerebbe importante. Passiamo alla dominance, la dominance continua a dondolare lì vicino a questo livello di supporto di marzo, sembra che va, settimana scorsa l'ha fatto 3-4 volte, però poi rimbalza sempre, importante vedere, lo ripeto, anche la dominance la trattiamo nella nostra newsletter, importante, dominance forte, spesso e volentieri significano altcoin che seguono. Vediamo Ethereum, veloci, Ethereum è a 3.204, Ethereum è in questo momento leggermente più debole rispetto a Bitcoin, da quello che si vede a livello grafico perché è al di sotto già di questo supporto, stiamo a vedere come chiuderà la giornata, queste è la quinta giorni, stiamo a vedere, importante non perdere questa e in qualsiasi caso il mio livello dove sono interessato di nuovo per Ethereum è intorno ai 3.000 dollari, anche qua, se andrà a ritoccare di nuovo questo supporto che ha retto brillantemente fino adesso, ci sarà un'altra possibilità di acquisto per Ethereum, a dovesse rompere questo, ahimè, si aprono scenari intorno ai 2.400, ma lì cambierebbe proprio la struttura di mercato, quindi sarebbe qualcosa da rianalizzare più avanti. Vediamo anche Ethereum BTC, giusto prima di chiudere, è lì nel mezzo del nulla, tra supporto e resistenza, aveva rotto questa trendline, siamo andati a toccare questa resistenza, probabile che il supporto in questo momento faccia un po' da calamita, quindi andare anche nella coppia Ethereum BTC verso i 0.07, sarebbe un, vediamo da qui, sarebbe un 3-4% al di sotto e questo ovviamente poi viene anche visto nel prezzo contro i USD. Non abbiamo altre cose da aggiungere, se non ricordarti che mercoledì sera saremo in questa masterclass di 2 ore, completamente gratuita, con i ragazzi di Hermes, Alberto, ognuno parlerà di argomenti importanti, si parla di blockchain e di bitcoin, si parlerà di trading, si parlerà di dati on chain e si parlerà di mindset, qui sotto trovi il link per registrarti, se non sei ancora registrato ci sono veramente pochissimi posti ancora disponibili, mercoledì sera dalle 19 alle 21, non te la perdere assolutamente, fai una buona settimana e ci sentiamo domani per Parliamo di Bitcoin. Ciao e buona giornata.